Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Aspettate che metto bene anche qua su... Eccoci! Questa rassegna stampa di oggi, 24 maggio. Allora, in un paese normale, in un paese normale, dico io, si racconterebbero le cose in maniera normali, riguardo per esempio alla commemorazione della morte di Falcone, di sua moglie, della scorta, di tre ragazzi della scorta, esattamente 27 anni fa, la strage di Capaci. Perché si racconterebbero le cose normali? Perché pochi anni prima di quella strage, un anno prima di quella strage, come raccontano perfettamente oggi Giorgio Gandola sulla verità e Mattia Feltri in poche righe sulla stampa, due giornali più diversi di questi non li possiamo immaginare, l'europeista stampa e la sovranista verità, mettiamola così, come entrambi raccontano perfettamente. Il signor Orlando, oggi di nuovo incredibilmente sindaco di Palermo, quello che più che la spezzatura si occupa degli immigrati che vorrebbe che riempissero la sua città, bene, il signor Orlando, presentandosi da Santoro a Samarcanda, all'epoca si chiamava così la sua ignominosa trasmissione riguardo a queste vicende della mafia, beh, insomma, il signor Orlando disse c'è in procura qualcuno che tiene i cassetti, diciamo, chiusi e che sostanzialmente non vuole fare la vera lotta alla mafia. Chi c'era in procura in quel momento? Il signor Falcone, poi ammazzato dopo un anno, non contento, come ci ricorda Mattia Feltri, dice questa roba qui anche in un'intervista dell'Unità, Falcone non era amato da tutti, quando fu nominato e portato a Roma dal ministro della giustizia Martelli fu considerato dai suoi amici magistrati, dai comunisti, da una parte dei comunisti e da quegli specialisti dell'antimafia una merda veniva considerato Falcone, tant'è che la sorella di Falcone ha detto riguardo a Orlando ha infangato il suo nome, la sua dignità, la sua onorabilità e allora questo qui che non si presenta alle commemorazioni di Falcone dopo che 27 anni ha fatto finta di essere l'eroe dell'antimafia, mentre di antimafia c'ha nulla, se non il quacquaraquac tipico di alcuni politici di sinistra gesuitica siciliana, ecco, questo signore che ieri non si presenta è semplicemente, dovrebbe essere la fine di un percorso normale, perché lui con Falcone non aveva nulla a che spartire, così come aveva nulla a che spartire con Borsellino. Il signor Orlando, professionista dell'antimafia, con questi qua non è a nulla a che spartire. Un po' diverso se volete Fava, che anche ieri non si è presentato, un po' diverso certamente Musumeci, che ieri sera non si è presentato, ma il punto fondamentale è che questi geni della politica italiana non si presentano alla commemorazione dove c'è Mattarella, dove c'è Conte, perché c'è Salvini. Complimenti. Questi sono gli eroi dell'antimafia, a chiacchiere, siciliani, quelli che non si presentano perché c'è Salvini. Tra l'altro Musumeci, scusami, con quali voti sei stato eletto Musumeci alla presidenza della regione Sicilia? Forse qualche voto di questi orribili, non mafiosi, ma leghisti, l'hai preso anche tu, oltre quelli di Fratelli d'Italia, che vuole allearsi con la Lega, perché oggi la Meloni in due o tre interviste dice che si vuole alleare con la Lega e vuole scansare Forza Italia perché è troppo europeista. Me lo spiegate qual è il concetto per il quale non partecipate? Vabbè, leggetevi Gandola, oggi sulla Verità e Mattia Feltri, se avete meno tempo, sulla stampa, perché la vicenda di Orlando che non si presenta alle commemorazioni di Capaci è proprio il segno distintivo di quel filo rosso, che io leggo uguale, il presidente Montante, l'uomo, l'amichetto della Marcegaglia, per la legalità, eccetera, a cui hanno richiesto, mi sembra che erano condannato in primo grado, a 14 anni per associazione a delinquere, e il, mi sembrava grog, come si chiamava, il presidente degli aeroporti, non so, di Palermo o di Catania, arrestato perché faceva parte dell'anti-racket, questi fenomeni dei professionisti dell'antimafia, da Orlando in poi, che comunque con la mafia non hanno mai, voglio dire, di antimafia non hanno avuto mai nulla, se non le chiacchiere che hanno fatto a tavola. Nel frattempo le persone morivano e combattevano contro la mafia, non sono gli Orlando, non sono i Montante, non sono i Marcegaglia, non sono questi qua, questi si facevano belli con l'antimafia, ma questo ce l'ha spiegato Sciascia, è inutile che lo spiego io. In Olanda hanno vinto i populisti, manco per niente, e i giornali, tra cui il Corriere della Sera, godono come dei ricci. In Italia non è possibile neanche dire cosa succede negli exit poll, e si dice che il cavallo salvifico sta al 30%, mentre invece la zingara romana sta al 20%, cioè le corse, sapete che ci sono queste famose corse in cui mettono dei nomi diversi con dei numeri che danno il senso dei sondaggi dell'ultima ora, però si può dire a piena pagina che i populisti non hanno vinto e hanno stravinto i laboristi in Olanda, godendo tutti quanti come dei ricci. Poi scopri che l'Olanda è un paese alla fine in cui i sovranisti hanno preso esattamente quello che hanno preso l'altra volta. Certo, come nota giustamente qualcuno, non sono i sovranisti che erano in piazza con Salvini, ma un altro sovranista che ha preso quattro. Mi sembra Battistini, oggi lo racconta bene, anche se con l'ironia di chi non ama i sovranisti, sul Corriere della Sera. Quattro seggi sovranisti su 26 seggi che sono attribuibili in Olanda contro i nostri 76. Ricolfi dice oggi una cosa interessante sul messaggero proprio perché Ricolfi, e cioè che pensa che non ha nessun pregiudizio nei confronti né di Salvini né di chiunque altro, mi sembra uno studioso serio, dice che inizia forse a sentirsi che è finito il momento magico di Salvini. Quel momento che lo aveva portato al 35-36% nei sondaggi non c'è più. Insomma, più indizi fanno pensare che gli opinionisti abbiano letto i sondaggi con i cavalli e sappiano di che cosa sono pronti a fare gli italiani. Vi dico però che tutti questi sondaggi dicono che ci sono ancora tanti indecisi, cioè che siete voi, che possono un po' cambiare le questioni anche per l'altro grande partito in questo momento del centrodestra, cioè Forza Italia, per cui oggi è arrivata l'altra grande cosa che succede sempre prima delle elezioni, e cioè l'antimafia che dice che è impresentabile Berlusconi. E perché è impresentabile insieme ad altri quattro candidati di Forza Italia, di cui peraltro uno, Tatarella, ha arrestato, che sarebbe un bel consiglio votare Tatarella che è arrestato senza secondo me nessun indizio, per dare anche un segnale che in realtà non sono i magistrati che dicono le elezioni, ma sono i cittadini che scelgono i loro rappresentanti, poi se verrà condannato decadrà, ma nel frattempo i cittadini sono liberi di votare chi gli pare, però per persino Tatarella, che per quanto mi riguarda è innocente, per quanto mi riguarda, poi potrebbe anche essere condannato e a quel punto i magistrati ci sveleranno quello che noi in questo momento dalle carte non capiamo. Molto interessante un pezzo del foglio oggi su Chiappendino, e cioè che le elezioni regionali piemontesi che si tengono domenica e insieme a quelle, mi sembra ci siano 289 comuni della cintura rossa di Torino che vanno al voto, daranno anche il segno se i Grillozzi voteranno PD, perché lì il centrodestra è avanti in Piemonte e secondo è Chiamparino, terzo largamente distanziato è il candidato del Movimento 5 Stelle, e quindi cosa faranno i 5 Stelle? Faranno il voto disgiunto e voteranno Chiamparino, ma insomma, dice il foglio, quello che hanno fatto sul Salone di Torino, cioè Appendino e Chiamparino, tutti e due contro una casa editrice perché si presentasse al Salone di Torino, fa pensare che ci sia una certa intesa cordiale, una Chiampendinata, beh, insomma, questo sarebbe un buon motivo per non votare Chiampendino, soltanto quello che ha fatto al Salone del Libro di Torino, ma queste sono vicende personali che mi riguardano soltanto a me. Abuso d'ufficio? Beh, e qui ovviamente c'è lo stridone del Movimento 5 Stelle che grida come un pazzo, no? Sulla legalità, su queste minchiate su cui lui è un fenomeno e racconta a Salvini tutte le cose e dice insieme a Di Maio, ispirato ovviamente dallo senso del Movimento 5 Stelle, che dice, come si chiama, non vi occupate di queste stronzate, dice Di Maio a Salvini che ha detto che bisogna cambiare la legge sull'abuso d'ufficio. fantastica la vignetta di Osho oggi sul tempo che dice, si vede Di Maio che dice a Salvini nell'orecchio una cosa di questo tipo con il nostro decreto abbiamo abolito la povertà e Salvini che gli risponde allora sono io quello che dice le stronzate e che trovo geniale. Ma comunque, a parte questa battuta, il punto fondamentale non è stato cioè quello là, come si chiama, Travaglio, quello che poi ogni tanto gli capitava anche a lui di farsi qualche vacanza con i mafiosi. Ma quando Travaglio si occupa dell'abuso d'ufficio e dice, ma insomma, è l'unico modo per non avere, se non incappare nell'abuso d'ufficio è non abusare dei propri uffici. Beh, oggi bisognerebbe leggere un altro pezzo, forse lo potrebbe leggere là il nostro Torquemada del Movimento 5 Stelle che è fatto da Bianconi sul Corriere della Sera che ci dice esattamente quali sono i numeri. Sapete quante indagini sono state aperte per questo reato dai confini labili e che nessun magistrato da Nordio serio in poi dice che ha un senso alcuno? Sapete quanti sono le indagini sull'abuso d'ufficio in Italia? Centomila! Centomila! I vostri processi, i vostri cause, le vostri crediti nei confronti di chi non vi paga non vanno avanti. Sapete perché? Perché ci sono gli abusi d'ufficio? Centomila! Procedimenti di abuso d'ufficio. un paese bloccato da inutili procedimenti. La stessa raggi se ne sarà beccati dieci di abusi d'ufficio. Tutti i sindaci si beccano un abuso d'ufficio. Ma vi sembra una cosa normale? Soprattutto poi in un clima in cui travaglio appena uno si becca l'abuso d'ufficio se non è ovviamente del suo partito del Movimento 5 Stelle gli fa un culo così. Cioè ovviamente fanno un culo così soltanto a un abuso d'ufficio di Forza Italia è morto. Un abuso d'ufficio da parte di uno del PD è morto. Della Lega è fucilato. Sede invece uno come la Raggi come il Nogarin o come la Chiappendino vabbè lì non ci sono problemi perché sono loro. Ma insomma vogliamo cambiare questo abuso d'ufficio o no? Ma è talmente chiaro lampante secondo tutte le persone serie tranne ovviamente quelle che hanno il paraocchio così l'occhio così no? Come l'occhio così da Torquemada avete capito di chi si parla giornalista di Repubblico Menato e durante la manifestazione ieri che c'era a Genova la manifestazione funzionava così che c'era Casa Pound che fino a prova contraria mi sembra che abbia la possibilità io non condivido niente di Casa Pound proprio non cioè sono quelli per me sono dei comunisti nelle loro ricette economiche mi fanno orrore le loro nazionalizzazioni non me ne frega niente di Casa Pound chiaro? La premessa ma avranno diritto a fare una manifestazione così come tutti gli altri se viene autorizzata? Sì solo che non ce l'hanno perché quando Casa Pound fa una manifestazione arrivano gli antagonisti che gli vogliono fare un mazzo così e siamo costretti noi tutti i cittadini a pagare i poliziotti che si mettano di mezzo tra i cittadini e gli antagonisti c'era un giornalista tra gli antagonisti che voleva certificare quello che stava avvenendo e viene menato preso a manganellate da un poliziotto ovviamente Repubblica si indigna come tutti quanti noi facciamo lo stesso mestiere venire facendo proprio mestiere menati da un poliziotto non mi sembra una cosa sana e giusta detto questo il punto fondamentale non è soltanto il dito cioè del poliziotto menato scusatemi del giornalista menato a cui auguro una pronta guarigione gli hanno spaccato un dito le ossa cioè robe non buone non va bene il punto fondamentale è che non è possibile che se c'è una manifestazione siano tollerabili gli antagonisti che devono sempre fare si chiamano antagonismo devono fare il loro terrorismo diciamo spicciolo da terrorismo urbano ecco questo mi sembra una cosa fuori di ogni ragionamento così come ovviamente fuori di ogni ragionamento che un giornalista per fare il suo mestiere vada a finire in ospedale direi che per oggi è tutto noi ci vediamo come sempre vi ricordate che domenica abbiamo lo speciale sulle elezioni sarà l'unico speciale che sarà come possiamo dire non quello speciale drammatizzante le vittorie o le sconfitte dei populisti cercheremo di dire la nostra senza nessun pregiudizio nei confronti di alcuno ciao